Cari fratelli cardinali, fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, fratelli e sorelle nella fede, in quest'ora di grande responsabilità ascoltiamo con particolare attenzione quanto il Signore ci dice con le sue stesse parole. Dalle tre letture vorrei scegliere solo qualche passo che ci riguarda direttamente in un momento come questo. La prima lettura offre un ritratto profetico della figura del Messia, un ritratto che riceve tutto il suo significato dal momento in cui Gesù legge questo testo nella sinagoga di Nazareth, quando dice «Oggi si è adempiuta questa scrittura». Al centro del testo profetico troviamo una parola che, almeno a prima vista, appare contraddittoria. Il Messia, parlando di sé, dice di essere mandato a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Ascoltiamo con gioia l'annuncio dell'anno di misericordia. La misericordia divina pone un limite al male, ci ha detto il nostro Santo Padre Giovanni Paolo II. Gesù Cristo è la misericordia divina in persona. Incontrare Cristo significa incontrare la misericordia di Dio. Il mandato di Cristo è divenuto mandato nostro attraverso l'unzione sacerdotale. Siamo chiamati a promulgare, non solo a parole, ma con la vita e con i segni efficaci dei sacramenti, l'anno di misericordia del Signore. Ma cosa vuol dire Isaia quando annuncia il giorno della vendetta del nostro Dio? Gesù a Nazareth, nella sua lettura del testo profetico, non ha pronunciato queste parole. Ha concluso annunciando l'anno della misericordia. E' stato forse questo il motivo dello scandalo realizzatosi dopo la sua predica? Non lo sappiamo. In ogni caso il Signore ha offerto il suo commento autentico a queste parole con la morte di croce. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, dice San Pietro. E San Paolo scrive ai Galati, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della lecce, diventando Lui stesso maledizione per noi, come sta scritto, «Maledetto chi pende dal legno», perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle centi e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. La misericordia di Cristo non è una grazia a buon mercato, non suppone la banalizzazione del male. Cristo porta nel suo corpo e sulla sua anima tutto il peso del male, tutta la sua forza distruttiva. Egli brucia e trasforma il male nella sofferenza, nel fuoco del suo amore sofferente. Il giorno della vendetta e l'anno della misericordia coincidono nel mistero pasquale, nel Cristo morto irrisorto. E questa è la vendetta di Dio, Egli stesso nella persona del Figlio soffre per noi. Quanto più siamo toccati dalla misericordia del Signore, tanto più entriamo in solidarietà con la sua sofferenza, diveniamo disponibili a contemplare, a completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Passiamo alla seconda lettura, alla lettera agli Efessini. Qui si tratta in sostanza di tre cose. In primo luogo, dei ministeri dei carismi nella Chiesa, come doni del Signore risorto ed asceso al cielo, quindi della maturazione della fede e della conoscenza del Figlio di Dio come condizione e contenuto dell'unità nel corpo di Cristo, ed infine della comune partecipazione alla crescita del corpo di Cristo, cioè della trasformazione del mondo nella comunione col Signore. Soffermiamoci solo su due punti. Il primo è il cammino verso la maturità di Cristo, così dice un po' semplificando il testo italiano. Più precisamente dovremmo, secondo il testo greco, parlare della misura della pienezza di Cristo in cui siamo chiamati ad arrivare per essere realmente adulti nella fede. Non dovremmo, ci dice San Paolo, non dovremmo rimanere fanciulli nella fede, in stato di minorità. In che cosa consiste l'essere fanciulli nella fede? risponde San Paolo significa essere spallottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Una descrizione molto attuale. Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni? Quanti correnti ideologiche? Quanti modi del pensiero? La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado accettata da queste onde, accettata da un estremo all'altro, dal marxismo al liberalismo fino al libertinismo, dal collettivismo all'individualismo radicale, dal ateismo ad un vago misticismo religioso dall'agnosticismo al sincretismo e così via. Ogni giorno nascono nuove sette e si realizza, quanto dice San Paolo, sul inganno degli uomini, sull'astuzia che tende a trarre nell'errore. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi, invece, abbiamo un'altra misura. Il figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanissimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Ed è questa amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare. A questa fede dobbiamo guidare il grece di Cristo. Ed è questa fede, solo la fede, che crea unità e si realizza nella carità. San Paolo ci offre a questo proposito in contrasto con le continue peripezie di coloro che sono come fanciulli spalutati dalle onde una bella parola. fare la verità nella carità, come formula fondamentale dell'esistenza cristiana. In Cristo coincidono verità e carità. Nella misura in cui ci avviciniamo a Cristo, anche nella nostra vita verità e carità si fondono. La carità senza verità sarebbe cieca. La verità senza carità sarebbe come un cembalo che in tintinna. Veniamo ora al Vangelo, dalla cui ricchezza vorrei estrarre e fare solo due piccole osservazioni. Il Signore ci rivolge queste meravigliose parole «Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici». Tante volte sentiamo di essere come è vero servi inutili. E ciò nonostante il Signore ci chiama amici, ci fa suoi amici, ci dona la sua amicizia. Il Signore definisce l'amicizia in un duplice modo. Non ci sono secreti tra amici. Cristo ci dice tutto quanto ascolta dal Padre, ci dona la sua piena fiducia e con la fiducia anche la conoscenza. Ci rivela il suo volto, il suo cuore. Ci mostra la sua tenerezza per noi. Il suo amore appassionato che va fino alla follia della croce. Si affida a noi. Ci dà il potere di parlare con il suo io. Questo è il mio corpo. Io ti assolvo. affida il suo corpo e la Chiesa a noi. Affida alle nostre deboli menti, alle nostre deboli mani, la sua verità, il mistero del Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, il mistero del Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unicenito. Ci ha reso, Suoi amici. E noi come rispondiamo? Il secondo elemento con cui Gesù definisce l'amicizia è la comunione delle volontà. Idem velle, idem nolle era anche per i romani la definizione di amicizia. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. L'amicizia con Cristo coincide con quanto esprime la terza domanda del Padre nostro, sia fatta la Tua volontà come in cielo, così in terra. Nell'ora del Cezimani, Gesù ha trasformato la nostra volontà umana ribelle in volontà conforme ed unita alla volontà divina. Ha sofferto tutto il dramma della nostra autonomia e proprio portando la nostra volontà nelle mani di Dio ci dona la vera libertà, non come voglio io, ma come vuoi tu. In questa comunione delle volontà si realizza la nostra redenzione. Essere amici di Gesù, diventare amici di Dio. Quanto più amiamo Gesù, quanto più lo conosciamo, tanto più cresce la nostra vera libertà, cresce la gioia di essere redenti. Grazie, Gesù, per la Tua amicizia. L'altro elemento del Vancello cui volevo accennare è il discorso di Gesù sul portare frutto. Vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Appare qui il dinamismo dell'esistenza del cristiano dell'Apostolo. Vi ho costituito perché andiate dobbiamo essere animati da una santa inquietudine, l'inquietudine di portare a tutti il dono della fede dell'amicizia con Cristo. In verità, l'amore, l'amicizia di Dio ci è stata data perché arrivi anche agli altri. Abbiamo ricevuto la fede per donarla ad altri. siamo sacerdoti per servire altri e dobbiamo portare il frutto che rimanga. Tutti gli uomini vogliono lasciare una traccia che rimanga. Ma che cosa rimane? Il denaro no. Anche gli edifici non rimangono. I libri nemmeno. Dopo un certo tempo più o meno lungo tutte queste cose scompaiono. L'unica cosa che rimane in eterno è l'anima umana, l'uomo creato da Dio per l'eternità. Il frutto che rimane è perciò quanto abbiamo seminato nelle anime umane l'amore, la conoscenza, la fede. il cesto capace di toccare il cuore, la parola che apre l'anima alla gioia del Signore. Allora andiamo e preghiamo il Signore perché ci aiuti a portare frutto, un frutto che rimane. Solo così la terra viene cambiata da valle di lacrime in giardino di Dio. Ritorniamo infine ancora una volta alla lettera agli Efesini. La lettera dice con le parole del Salmo 68 che Cristo ascendendo in cielo ha distribuito doni agli uomini. Il vincitore distribuisce doni. E questi doni del vincitore Cristo sono apostoli, profetti, evangelisti, pastori e maestri. Il nostro ministero è un dono di Cristo agli uomini per costruire il suo corpo, il mondo nuovo. Viviamo il nostro ministero così come dono di Cristo agli uomini. Ma in questa ora soprattutto preghiamo con insistenza il Signore perché dopo il grande dono di Papa Giovanni Paolo II ci doni di nuovo un pastore secondo il suo cuore, un pastore che ci guidi alla conoscenza di Cristo, al suo amore alla vera gioia. Amen. Applausi